L'altro giorno stavo riflettendo su cosa pubblicare come ultimo video prima delle vacanze Anche perché non mi andava proprio tanto di lasciarvi con un ultimo video rimosso per incitamento al nazismo Attività assolutamente chiave e prioritaria di questo canale Come potete immaginare, per maggiori info vi aspetto su Instagram, sul gruppo Telegram O boh, tipo davanti a un S lunga a fare l'elemosina su un tappetino di cartone Ho notato che è passato fin troppo tempo dall'ultima puntata dell'infiltrato La serie in cui mi intrufolo nelle community più strambe del web e vi faccio un reportage Nonché serie principe di questo canale E proprio mentre stavo industriosamente scartando una ad una tutte le terribili idee che mi stavano venendo in mente Ho, purtroppo, appreso dell'attentato a Trump Una tragedia di cui, al momento della registrazione, si sa pochissimo, se non nulla Ma che nei gruppi complottisti ha già solidificato delle granitiche certezze E non solo loro, hai visto che i giornali, pur di dare per primi la notizia dell'identificazione dell'attentatore Hanno fatto a gara sputtanare Marco Violi Un giornalista della Roma spacciato per un account X chiamato Mussoligno Per Mark Violets, un attentatore terrorista di Antifa Ma continuiamo a dire che il fact-checking non serve a niente Mettiamolo dopo il meteo e dopo la finale di Coppa di Serie D E poi arriva Mussoligno e semina il panico E io sto ancora aspettando che le donne bollenti a pochi chilometri da me mi rispondano Ho già messo i dati della carta di credito due volte Saranno impegnate Comunque Mark Violets non è l'unico finto terrorista che gira su internet C'è anche questo tizio, un trollone che viene spammato sui gruppi complottisti A testimonianza che sia tutto finto Sì, perché in caso non l'abbiate ancora capito La narrazione contro sistema vuole che sia tutto uno show Non c'è nulla di vero, è tutto organizzato Che poi tutto può essere, è solo che io sarei un po' cauto Aspetterei qualche ora, se non qualche giorno Prima di proclamare ai 420 che Questo attentato era un blef E lo potrei quasi dimostrare Ma quasi, eh, quasi Manca, manca poco, tanto così Stai lì un secondo, vado a fare delle commissioni E poi ti dico tutto, eh, torno subito Quindi, andiamo con ordine La vicenda dell'attentato a Trump è ancora tutta da decifrare Che si sia trattato di un autoattentato in chiave elettorale Che sia invece un'operazione della CIA per sbarazzarsi di Trump O per costruire una narrazione con finalità terze Il nostro ruolo è quello di mettere in campo tutti gli elementi Adoro come già in partenza si sia scartata totalmente l'alternativa più semplice Deve esserci per forza qualcosa dietro Un megacomplottone Aspetta che apro l'enciclopedia del complottismo, va Mmm, chi è stato? I bankers? I Rothschild? I democratici? Il pentagono CIA? Il finto Papa Bergoglio? O il gay? O magari tutti insieme? Perché no? Un megamostro a più teste è al servizio del mainstream Il nemico finale La domanda che si fanno tutti è Perché si dovrebbe inscenare un eventuale falso attentato a Trump? Perché? No, ma ditemelo Perché ormai io sarò lobotomizzato dal mainstream Ma proprio non lo capisco Vabbè, leggiamoci qualcuna delle teorie più plausibili Perché all'elite serve che il popolino stupido americano Stia buono con il loro idolo alla Casa Bianca Intanto l'agenda continua spedita Minchia speditissima Son nove anni che ci caccano la minchia Con sta agenda 20-30 Ancora non hanno fatto praticamente niente di malvagio Che sono spediti come un regionale di Trenitalia Serve a togliere le armi Moredetti! E poi come le facciamo le stragi nelle scuole? A colpi di zucchina? MK Ultra? Il programma della CIA più amato dai complottisti Il controllo mentale Ma non potevano controllare un cecchino addestrato? Mannaggia, non ci han pensato Tutto bisogna dirgli a sti imbecilli della CIA Trump non è santo e non porterà luce e pace nel mondo Ma resta curioso il fatto dello scopo di questo attentato Era talmente bravo lo shooter Perché il compito era di prendere proprio l'orecchio senza far danni? O quale altra ipotesi? Fammici pensare Quale potrebbe essere lo scopo di sparare a qualcuno con un fucile? Forse voleva fargli prendere fuoco ai capelli sfiorandoli con una pallottola? Per portare via i voti a Kennedy L'idolo dei Novax Ma non facevano prima sparare a lui? Per far andare la gente a votare! Ah, le elezioni libere Il metodo più sicuro per controllare il potere Non c'è più la libertà che c'era una volta Quando c'erano le dittature Per far saltare le elezioni Ok, ora sono confuso Perché nei prossimi mesi e anni verranno prese delle decisioni estremamente impopolari E per evitare che la popolazione si ribelli Le faranno prendere degli attori e delle comparse Che fino a questo momento hanno recitato la parte dei buoni Ah, ma quindi serviva un eroe No, ma Trump è perfetto per questo Non è assolutamente un personaggio divisivo È osannato dai giornali di tutto il mondo Meglio di lui C'è solo il Dalai Lama Ripassare i tre segreti di Fatima Lì c'è tutto Oddio, la Madonna ha dato un endorsement a Trump? Vabbè, sono più confuso di prima Passiamo ad altro Che tanto il movente mi pare di capire che non sia ben chiaro a nessuno Quali sono le prove che sia tutta una montatura? Ballisticamente non ha alcun senso quanto vediamo Il proiettile non avrebbe mai potuto semplicemente strisciare l'orecchio di Trump Se fosse partito davvero dalla zona del capannone indicata nella versione ufficiale E non sarebbe bastato neppure che Trump girasse il viso affinché questo accadesse E questo l'hanno stabilito con dei complessi calcoli di trigonometria Ricavati da immagini a tre pixel comodamente seduti dal divano di casa Immagino benissimo come sia andata Ecco, vedete questo qua col ciuffo giallo è Trump Questo quadrato è il palazzo Come vedete dalla traiettoria del proiett... Vabbè, mannaggia non riesco a fare dritta la riga Aspetta Ecco Non ci può passare Si vede Il proiettile se avesse solo sfiorato l'orecchio gli avrebbe fatto saltare la testa O per caso era un fucile giocattolo? Eh Naturalmente Perché come noto a tutti Trump è composto al 90% da tritolo Addirittura uno spiegava come la bandiera dietro Trump è un classico per aiutare chi spara a calcolare eventuali interferenze del vento Aspetta Non mi vedere Eh no, questo è vero eh Li han beccati Secondo me non c'è stato nessuno sparo Il colpo era a salve e una volta a terra e nascosto gli hanno messo del liquido rosso sull'orecchio Sì, sì, come i wrestler Perché poi Voi non lo sapete Ma avete visto solamente la versione accorciata Nella Extended Si vede Trump che dopo che si rialza fa una 619 all'attentatore David Aronovich Presentatore britannico di origini ebraiche della BBC Aveva chiaramente scritto l'1 luglio Che era necessario uccidere Trump per la sicurezza dell'America Ma si aveva avvertito A sto punto è anche scortese Poi non farti ammazzare Scusa Vabbè, è ebreo Quindi hai maggior ragione Cioè si sa che loro hanno la mente al veare No? Quello che scrive uno lo pensano tutti Il cecchino sbaglia da 125 metri Però quelli lo beccano da 125 metri Che non sapevano neanche dove stava Ma che è una barzelletta? Se io voglio ammazzare l'ex presidente USA Fidati che non sbaglio Questa è la mia preferita Fidati E invece poiché Open di Mentana Re dei Bufalari Sottintende che lo sia Probabilmente non lo è Vabbè ma questo è bellissimo Cioè è la fede al contrario Se c'è un mio nemico Io mi fido di quello che scrive Ma al contrario A sto punto secondo me Gli europei li ha vinti l'Inghilterra Non abbiamo ancora visto il corpo dell'attentatore ucciso Perché le foto non gli bastano Lui vuole proprio il corpo esposto Come fosse una reliquia in chiesa Ucciso il cecchino dagli stessi servizi segreti Che hanno progettato un attentato al presidente Per non farlo parlare Maledetti Come hanno potuto abbatterlo Anziché chiedergli cortesemente Di smetterla di sparare sulla folla Barbari E poi naturalmente come al solito La censura che ci tappa la bocca Non si faccia intimorire signora Peppina Continui a commentare sotto i video di TikTok Non possono silenziarci tutti O naturalmente anche in questo caso I collegamenti non sono mancati Perché il multiverso complottista È qualcosa di cui sappiamo ancora spaventosamente poco I cloni Gli illuminati L'OMS L'11 settembre Il covid Lo sbarco sulla luna È bello quando torni dopo mesi in un posto E ritrovi che non è cambiato poi molto Da quel non so che Di nostalgico Sempre le stesse cantilene Sempre le stesse cose Bene Per oggi è tutto Spero di avervi tenuto compagnia E che il video vi abbia divertito Probabilmente questo sarà L'ultimo video Prima della pausa estiva Quindi ci rivedremo a settembre A meno che riesca a farmi Ripubblicare Adolf Ball Che era una parodia di Dragon Ball Che però mi è stata rimossa Nel qual caso vi do appuntamento a settembre Vi auguro delle buone vacanze Per chi le fa O comunque Un buon agosto E niente Sto prolungando un sacco questo finale Mi sto incartando in me stesso Che dire Tanto i dieci minuti li avrò fatti No? Stacchiamo? Stacchiamo Ciao Ciao